Adesso andiamo a ritirare la nuova auto di Ginny from the Lakes. Anche i cerchi? Ma che cosa avete fatto? È davvero speciale. Iscrivetevi al canale, sono Hansi. Avete detto bene, abbiamo preso una macchina nuova a Ginny, ma questa volta non gliela faccio nemmeno vedere da originale. Lei non sa niente, è qui dietro di me, già stizzita, è nervosita. Vi ricordate dell'ultima volta che le ho fatto una sorpresa con la sua nuova macchina qualche anno fa? Che bella reazione che ha avuto. Allora? No, non così. Quindi ho deciso di replicare questa cosa dove adesso andiamo da Venus Milano a ritirare la nuova auto di Ginny from the Lakes. Ecco, però le ultime cose che abbiamo fatto sulla Viper sono un po' spaventata perché come auto daily chissà che cosa mi hai combinato. Sto pazziando, raga, sto pazziando ultimamente con le livrere, sto pazziando. Di fatto mi dà manforte, mi dà totale sostegno sulle mie idee pazzarielle. Quindi adesso andiamo in Venus Milano e filmiamo Ginny e la sua reaction perché sono proprio curioso di vedere che cazzo ne hai pensato di questa cosa che ho fatto. Chissà, con questa faccia non prometti nulla di buono, Freddy. Andiamo. Interrompiamo il servizio per una notizia straordinaria. Questa Honda Civic del 1991 con motore VTEC, 160 cavalli, una carrozzeria da sogno, degli interni mozzafiato e uno scarico che fa un sound da brividi potrà essere tua, nel tuo garage. Il 17 aprile. Come? Ve lo spiega subito Ginny from the Lakes. È semplicissimo ragazzi, basta partecipare al concorso di B-Fuel, andate sul sito, acquistate il file digitale con gli sfondi della Civic, sarà il vostro biglietto per poterla vincere. Più biglietti acquistate e chiaramente più aumentano le vostre possibilità di potervela aggiudicare. E una cosa in più ragazzi, ve la consegneremo a casa, io e Freddy, personalmente. Affrettati, vai su TheFuel.it, acquista più i biglietti che potrai, perché sono limitati e tra poco c'è l'estrazione. Voi! Ultimo giorno a bordo di questa bomba. Ci siamo Ginny! Stavo cercando di intravedere qualcosa ma non ho visto nulla. Eccola. È questa? È questa. Non è vero. It's not this one. Lei non sa niente della livrea, quindi dobbiamo filmare la sua reazione. Potrebbe arrivare uno schiaffo fortissimo. Allora, fai una cosa, tanto più che lei non sa niente, lei prende la macchina, la mette dentro, qualcosa. Io intanto mi invento qualcosa. Va bene. Vado, eseguo. Eseguo. Non guardare, non guardare, vai di là. Vai di là. Dai, vieni. Basta che non vai dentro le macchine a far crescita. Sei pronta? Non si è mai abbastanza pronta. Io l'ho già vista, è una bomba. Tu l'ho già vista? Non è giusto però. Vieni a prenderla, gliela facciamo uscire. Dai, gliela facciamo uscire. Vai Max. Usciamo. All'inizio, mi sento... Cosa ne pensa lei? Ottimo prodotto. Ottimo prodotto? Adesso lo vediamo. Bene. Ma com'è esteticamente? Che questo mi interessa ancora di più. È una bomba. Vieni qua però, vieni vicino. Sì, faccio vedere. No, no, la guardi mentre esce, però devo filmarte io, non devo filmare la macchina. In trepidazione. Anche perché poi dovrò usarla quasi tutti i giorni. Quindi se non mi piace, sono problemi eh. Speriamo tu abbia scelto bene, altrimenti Freddy te la guidi tu. No. Sì? Le parlano molto bene di quest'auto, quindi ho paura di cadere nella trappola delle auto intelligenti. Anche i cerchi? Ma che cosa avete fatto? È fighissima. Mi piace? Questa idea di questa libreria particolare, chi l'ha avuta? Perché è davvero speciale. Speciale. Bella caduosa. Questi sono tra l'altro due dei miei colori preferiti, Freddy, lo sapevi eh. L'azzurro acqua e il viola insieme spaccano. Adesso tra l'altro ho i compiti a casa da fare perché devo imparare un sacco di cose. Cioè io non ho mai avuto una macchina elettrica. Non ho la più pallida idea di come si gestisca. Questo non è per le gare e non farla scappare i cavalli? Questo non è per prendere i fantasmi. Ghostbusters! Potremmo provare. Spina. Ah, lì non va la benzina. Puoi provare con la benzina, se riesci a farla andare, noi siamo anche contenti. Abbiamo un hybrid. Però il mondo sta cambiando, raga, dobbiamo cambiare con lui. Altrimenti sarà un casino. Gigi, da Brabus a Smart elettrica. Io la provo però. Perché adesso facciamo un test drive e mi ha detto che va fortissimo per essere elettrica. Installa. Yes! Come al solito è molto veloce, molto efficiente il mio telefono. Accedi all'app. Accediamo adesso. Benvenuto, eccoci. Panoramica, aggiungi vettura. Grazie. A voi. Della spiegazione. Gigi, tocca a te ora. No excuses. Prima ho trovato tutto il kit interno di carbonio e una bomba. Sei un furbacchione. Full carbon fiber interior. Grazie a tutti.